ci crea un API che vada a controllare se nella banca dati già è stato inserito un username nel caso in cui lo username sia già utilizzato l'utente non si può registrare allora in questo caso diciamo che l'esempio del percorso si sposa un po' male però noi andremo a farlo lo stesso andiamo a creare una folder che creano services e qui andiamo a crearci un servizio lo facciamo sul percorso sulle città diremo che accettiamo soltanto alcune città o al massimo mi abbiocco no spero di no andiamo a creare una validazione su delle città cioè alcune città magari facciamo finta che non siano accettate in questa forma di ricerca non ha senso lo so ma per fini didattici lo andiamo a creare quindi andremo a creare città.service.ts qui andiamo a creare a service qui lo andiamo città service costruttore vabbè e qui andiamo a creare città valide uguale mettiamo Milano Roma Trieste Trieste vabbè queste tre città e facciamo un metodo ormai i servizi li abbiamo visti le volte scorse che ci dica se la città è valida o no quindi città valida nome città il punto string e qui ci facciamo dare ovviamente questo sarebbe fantasticando un observable di qualcosa perché un observable e questo lo vedremo quando affronteremo le chiamate http abbiamo visto gli rxjs già ve l'avevo annunciato tutte le chiamate http che faremo verso il back end indovina indovina sarà in rxjs quindi qui facciamo un observable di che cosa? ci faremo ritornare un boolean quindi questa automatica API che in realtà non è API perché la cabelleremo qui nel codice ci dovrà tornare un boolean quindi da partendo dal nome città dobbiamo fare creare l'observable ora lo facciamo molto semplice return come abbiamo visto l'altra volta vi ricordate l'altra volta abbiamo fatto la differenza tra il prom e l'off vi ricordate? come ha detto Fabio prima l'off che cos'è? accetto il numero arbitrario dei parametri from array ed emette un valore per ogni elemento a noi interessa che ritorniamo tutte le città valide quindi vis.città valide e usiamo l'off ok facciamo una pipe qui che dobbiamo fare? dobbiamo fare un map abbiamo l'elenco città valide città valide ok e dobbiamo ritornare se una di queste valori sono valide o no quindi return elenco città valide punto som e e som ah e som sì dai facciamo som sì dai e uguale 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 nome città facciamo finta anche che sia un API un po' lenta perché ci sono tante città quindi delay facciamo che ritorni a 1000 ok quindi sia ritardata di 1000 quindi questa qui è l'API che andrà a controllare se il nome della città è valido oppure no andiamo qui e andiamo a creare una sync validator ah adesso mi viene in mente che prima scusate sto passando una cosa all'altra ma mi ero dimenticato una cosa qui non abbiamo tipizzato il ritorno ma lo possiamo fare adesso validator fn ok quindi il tipo di custom validator validator fn ok e qui il valore di ritorno è validation errors pipe null perché il null ovviamente come avevo detto prima non ci sono errori validation error è il tipo di validation error che diamo come vedete ok string due punti any la sync validator questa volta lo partiamo fatto bene quindi custom validator async cosa sarà un validator validator async validator fn e che ritornerà questo vabbè a parte che vado qui update import ok qui dovremmo dirgli return control due punti abstract control che sarà un error function questo return non accetta void perché guardate un po' quello che si aspetta di ritorno è o una promise di validation error null cioè come il custom validator no validation error solo che essendo asincrona lui si aspetta o una promise o un observable quindi questo tipo di ritorno di questo è un observable perché perché lo definiamo in questo momento observable perché abbiamo creato il servizio che definisce un observable di validation error null ovviamente in questo momento mi sta dando un errore che cosa vogliamo fare vogliamo andare a fare il controllo allora prima cosa che facciamo è fare l'inject private e come l'abbiamo chiamato città service uguale inject città service quindi qui un altro return vis.città service punto is città valida qui vuole il nome città control punto value ok ovviamente mi da un errore perché questo is città valida mi da un observable di string ma quello che noi dobbiamo tornare è un observable validation errors o null quindi che facciamo l'abbiamo visto anche le volte scorse facciamo un'altra pipe ci aggiungiamo un map qui mi sa che devo aggiungerlo quindi come valore avremo is valid e cosa ritorneremo se è valido un null oppure oppure un aggetto magari usiamo sempre questo visto che l'abbiamo già definito lo stiamo anche già facendo vedere nell'html error custom due punti e qui ci aggiungiamo il città non valida aspetta scusate il città valida è sei valida null puricità non valida andiamo a salvare ovviamente vabbè mettiamoci anche la sick dobbiamo agganciarlo dove lo agganciamo lo agganciamo sempre a livello di farm group come abbiamo agganciato l'altro visto che stiamo usando sempre la stessa property non è ovviamente nei validators ma se guardiamo nell'intelligence abbiamo async validator due punti vis punto custom validator async andiamo a verificare se è vero allora no in realtà non posso agganciarlo qui perché stiamo facendo il controllo su un controllo noi qui ci aspettiamo il controllo singolo quindi questo async validator non lo aggiungiamo qua lo aggiungiamo nel singolo nella singola destinazione quindi questo è il mio form control qui abbiamo validators virgola async validators e qui ci aggiungiamo il mio custom async validator andiamo a salvare andiamo a togliere via il console log del custom validator del custom validator dove è che l'avevo scritto eccolo qua togliamo via questo console log andiamo a rimetterlo qui nella async ci aggiungiamo un console log perché vogliamo vedere cosa succede come vi dicevo quando abbiamo fatto le lezioni su RxJS per il log di quello che succede va bene usare il tap può anche essere usato per altri motivi ma diciamo che è meglio non abusarne quindi R qui ci mettiamo la virgola qua console log città valida regola R andiamo a vedere intanto se funziona aggiungi nuova città città valida false vedete adesso io scrivo Milano città valida true disabilita se io metto Milan città valida false e se viene disabilitato e ho creato un custom valide ora qualcuno potrebbe dire ma perché non vedo l'errore qui semplice perché se vi ricordate l'errore custom sull'HTML questo per intenderci l'abbiamo fatto a livello di form group non a livello di controllo se vogliamo vederlo a livello di controllo possiamo aggiungerlo qui e fare il controllo corretto non è per percorso ma siamo nella destinazione form quindi qui dovrei prendere destinazione form punto control punto abbiamo destinazione forma abbiamo destinazione punto as error qui vediamo cosa mi diceva index signature ok qui possiamo mettere get get che cosa di destinazione quindi invece di usare il control se usiamo la funzione get qui ci dà l'errore mi dice che è possibile potrebbe anche essere null perché io posso aggiungere o togliere via controlli da un form group e qui mettiamo la stessa identica cosa inizia a farsi tardi eh andiamo a salvare andiamo a verificare come vedete città non valida mettiamolo col br magari non si usa il br proprio come vedete parte subito validazione parte subito parte anche quando il valore ma in questo momento non ha poca importanza quello che volevo farvi vedere era che se io scrivo dopo parte praticamente il controllo vedete città valida e poi lo fa vedere cosa ci mancava di vedere abbiamo visto i validatori abbiamo visto i validatori asincroni cioè quelli ad esempio che possiamo usare in un form di registrazione dell'utente per verificare se il nome utente già esiste oppure no quindi in questo caso dovremmo per forza fare una chiamata al back end e quindi useremo un validatore asincrono nel caso in cui invece dobbiamo fare una validazione sui dati inseriti ce ne possono essere diversi potremmo creare ad esempio un validatore sul sull'età dell'utente in questo caso noi se vi ricordate questo progetto vorremmo riutilizzarlo per creare una sorta di google maps usando tutti gli strumenti open source e a questo punto andiamo a vedere invece un altro modo per settare l'errore cosa significa un altro modo allora abbiamo visto il validatore un validatore asincrono ma in determinate situazioni potrebbe essere necessario settare un errore e sarebbe potrebbe tornare utile settare un errore in determinate situazioni e facciamo subito un errore